Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Continuiamo questa 35esima giornata di Serie B, dopo aver seguito Salernitana contro Monza, la seconda partita della giornata per noi è Lecce contro Cittadella. Mentre il Monza andava a conquistare un successo fondamentale per il proseguo della stagione sul campo della Salernitana, le migliori notizie per i Brianzoli arrivano anche dal campo di Lecce, perché al Via del Mare Lecce è stato sconfitto a sorpresa 1-3 dal Cittadella. Seconda sconfitta casalinga consecutiva per gli uomini di Corini, questo punto classifica che si è ancora più stretta. Abbiamo il Lecce, il Lecce è secondo con 61 punti, la Salernitana ha 60, il Monza è risalito a 58 punti e martedì abbiamo a Monza una sfida fantastica tra il Monza e il Lecce in questa lotta per la seconda promozione diretta, considerando che l'Empoli ha 67 punti, è relativamente tranquillo. Una partita stregata questa del Lecce, devo dire, perché è una prestazione non malvagia da parte degli uomini di Corini che però sono incappati nella classica giornata dove niente è andato come doveva andare. Il Cittadella non ha comunque rubato niente, ha giocato una partita piuttosto ordinata, è stata molto efficace nelle ripartenze, come vedremo soprattutto in occasione del primo gol, ha trovato dei colpi splendidi soprattutto nel gol del 2-1, ha saputo difendersi bene e ha portato a casa un successo importante e complessivamente meritato. Cittadella che ora è al sesto posto con 53 punti ha praticamente guadagnato e ha agganciato la posizione nella griglia playoff. Come detto il Lecce è un po' meno, gioca un po' meno bene rispetto al Lecce di quel momento fantastico di un paio di mesi fa quando aveva messo insieme la serie di successi consecutivi. Per oggi ho visto una squadra viva, una squadra combattiva, una squadra veloce, soltanto mi è sembrato un po' disordinata sia da un punto di vista tattico sia da un punto di vista emotivo perché ha cercato quasi con troppa urgenza di raggiungere questo gol del pareggio buttandosi in avanti in maniera un po' scriteriata sia nel primo tempo sia poi nel secondo tempo, ha sbagliato diversi gol e quindi un Lecce che deve a mio avviso semplicemente ritrovare un pochino più di calma e di serenità interiore perché la squadra è forte, gioca bene, sa giocare bene a calcio, ha tantissime armi al proprio arco specialmente in fase offensiva però oggi ha fatto fatica a mettere in pratica e a mettere a realizzare delle reti e a dare un sbocco efficace al proprio gioco. Come detto la partita è stata piuttosto equilibrata, è stata anche molto veloce, è stata piuttosto godibile da un punto di vista spettacolare, come detto però da un punto di vista tattico non è stata esattamente la miglior partita che io abbia mai visto. Lecce è partito bene, ha avuto delle buone occasioni all'inizio della partita, subito una bella bomba da meccariere o da fuori area, però il primo gol della partita è stato del Cittadella. Il primo gol è proprio una delle immagini di questa partita del Lecce perché il Lecce è avanzato in massa dalla propria metà campo, ha perso la palla tra la tre quarti e il limite dell'area del Cittadella, quattro giocatori del Lecce sono rimasti nella zona di attacco. Quindi c'è stata una fascia centrale praticamente quasi vuota, se mettete in pausa l'azione di contropiede del Cittadella vedete il buco a centrocampo soprattutto che si è creato una sorta di voragine che è stata veramente difficile da gestire per il Lecce. Il Cittadella è arrivato in avanti, ha concluso d'Urso da fuori area, ci si è messa la sfortuna in questo caso perché la palla è stata deviata da Hulman, è diventata imparabile per Gabriel e la palla è nata in rete e Cittadella si è trovato quindi in vantaggio. Il Lecce ha reagito, ha reagito con grinta, con vemenza, quella che non è mai mancata lungo tutto l'arco della partita e ha trovato una decina di minuti dopo il gol del pareggio con un bel gol di coda, il ventiduesimo gol della stagione di coda su un assist di Henderson. Gol dell'1-1, Lecce che è andato avanti ad attaccare, Lecce con una divisa splendida tra l'altro oggi e ha mancato però diverse volte il gol del 2-1. Rodriguez soprattutto oggi che ha giocato dall'inizio è andata molto meno bene di quando subentra nel secondo tempo, si è mangiato un gol abbastanza clavoroso su un bellissimo passaggio di coda, poi c'è stata un'altra occasione per Maggio in chiusura di primo tempo sul quale è stato molto bravo il portiere Castrati, poi Lecce un gol aveva anche segnato proprio in chiusura di primo tempo con Lucioni, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco che credo ci stia perché probabilmente la palestra è toccata da Meccariello che prolungandola ha messo Lucioni in posizione di fuorigioco. Inizia il secondo tempo e il Cittadella trova dopo due minuti il gol del vantaggio, il gol del 2-1 con una splendida prudezza di Rosafio, una giocata stupenda, tutto di sinistro, di Mancino prende la palla sulla fascia, si porta verso il limite dell'area, fa partire un tiro che va all'angolino, Corini come diceva il bordocampista chiamava i giocatori il fatto di stare attenti a Rosafio che è un giocatore tutto Mancino, Rosafio ha trovato una conclusione straordinaria e ha dato il gol del vantaggio al Cittadella. Lecce a questo punto, che si è buttato in avanti, ha costruito ancora occasioni, ci sono state un'altra chance per Rodriguez, un palo clamoroso di Maier, altro segno che oggi non era proprio giornata, Maier in questo caso servito da Adorno del Cittadella, ha fatto una conclusione da dentro l'area, una bomba clamorosa che ha colpito il palo, il palo è proprio a immagine di questa giornata dove veramente poco è andato nella giusta direzione per il Lecce. Lecce che poi man mano nel corso della partita a coda nel secondo tempo è stato anche sostituito, devo dire giustamente perché è piuttosto calato, è entrato Pettinari, è entrato Stepinski, diversi cambi da parte di Corini, c'è stato comunque un arrembaggio, diverse occasioni, una costante presenza anche nella metà campo del Cittadella, Cittadella che poi nel recupero è stato abile a trovare un contropiede e realizzare il gol del 3-1. Lecce come detto in questa partita un po' disordinato, un po' troppo in affanno, deve trovare veramente la tranquillità per poter andare a Monza a affrontare una partita così importante contro una squadra che oggi ha trovato tre punti fondamentali sul campo della Salernitana. Del Cittadella come detto una prestazione pulita, molto buona, molto ordinata, mi è piaciuto il centrocampo del Cittadella che ha creato pressione sul centrocampo del Lecce che solitamente è dominante e ha saputo costruire diverse occasioni in avanti. I migliori in campo per il Lecce mi sono piaciuti Maggio e Anderson, per invece il Cittadella i migliori a mio avviso Iori, Proia e Rosafio. Statistiche dell'incontro, possesso di palla 49-51, tiri 18-12 per il Lecce ma nello specchio 6-7, dimostrazione anche in questo caso del Cittadella che è stato più efficace in zona offensiva. Arbitro dell'incontro, Serra di Torino, voto 7, sono contento di questo bel arbitraggio, Serra non è la prima volta che lo vediamo, è sempre un arbitro piuttosto pulito, piuttosto corretto nelle proprie valutazioni, per lui 24 falli, 5 gialli, una buona personalità, un arbitro che a mio avviso avrebbe più possibilità di arbitrare in Serie A rispetto a quelle che sta avendo attualmente, comunque una buona prestazione a mio avviso da parte sua. Telecronaca Marco Calabresi, mi dispiace per lui, il voto in questo caso è 4 perché ha passato la partita a dire i ponteggi delle altre partite, ora capisco dare gli aggiornamenti sulle partite che potevano riguardare il Cittadella piuttosto che quelli che potevano riguardare la Salernitana contro il Monza, ma dare i punteggi di tutte le altre partite, come ci siamo detti tante volte, c'è diretta gol, se uno volesse può guardare quella, non ha bisogno di guardare una partita e sentirsi dire per tutto l'incontro gol di quei gol di là, insomma va bene, a mio avviso non è un commento positivo. Vi ringrazio ragazzi, like se vi piace il video, iscrivetevi al canale che come sempre per me è una cosa molto piacevole e molto importante, campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti. Noi continuiamo questa giornata, più tardi il video della partita invece per la zona salvezza tra il Cosenza e Pescara. Vi ringrazio, un bacio, a presto, ciao ragazzi.